Si giocherà lunedì sera il match di Coppa Italia tra Chievo e Salernitana e si giocherà al Bentegodi nella città Veneta, quindi niente cambio di sede dell'incontro come si era ipotizzato in un primo momento per un non precisato motivo di ordine pubblico. Si scenderà in campo alle ore 19, sarà il primo vero banco di prova per la nuova Salernitana di Torrente contro una squadra costruita per salvarsi. In Serie A i Granata testeranno la loro forza come possibile sorpresa per la promozione in Serie B. L'incontro dovrebbe essere trasmesso da Rai Sport. Intanto domani la Salernitana disputerà un amichevole con l'equipe Salerno dell'ex Pisani, un incontro che si ripete ogni anno da quando il team dei disoccupati esiste. Ieri differenziato per Trevisan mentre sul mercato in uscita Bianchi e Calilli in entrata Maniero specie dopo la richiesta di retrocessione in Lega Pro del Catania da parte del procuratore Palazzi. La Paganese invece ha cominciato il suo lavoro pre-campionato ad Acqua Santa Terme. I calciatori stanno giungendo alla spicciolata e agli ordini di mister Grassadone del suo secondo Fusco ci sono quindi anche molti giovani. La squadra però viene rinforzata praticamente ogni giorno con nuovi innesti. Nelle prossime ore potrebbero arrivare Ricci, Ricciardo e un difensore di esperienza. Si mormora della possibilità di prendere Bianchi dalla Salernitana, ma è un affare non semplice da valutare anche altre opportunità. La Cavesa invece in attesa della presentazione ufficiale la settimana prossima in piazza San Francesco continua a impegnarsi sodo per farsi trovare prontissima ai nastri di partenza della Serie D. Il team di Mister Longo si sta allenando sempre a Bracigliano ed è stato rimpinguato in queste ultime ore da alcuni giocatori in prova, ma il gruppo è ormai pronto, completo sia negli under che nei calciatori esperti. La società poi aspetterà fino agli ultimi giorni del calciomercato per regalare chissà una sorpresa a tecnico e tifosi. Infine l'eccellenza, il colpo dell'ingaggio di Pasquale Carotenuto rappresenta davvero la ciliegina sulla torta per il team del città di Nocera. Mister Esposito può ritenersi davvero fortunato perché avere due bocche da fuoco come Marcucci e Carotenuto in avanti significa voler mettere subito gli argomenti in chiaro contro la concorrenza. La nuova compagine rossonera parte nettamente con i fanori del pronostico nel torneo di eccellenza. Tra l'altro Carotenuto è fresco di scudetto raggiunto col Terracina. Parliamo di Beach Socher, specialità con la quale Carotenuto ha ottenuto numerosi successi anche con la nazionale italiana. Ma il bomber non è abituato solo alla sabbia, anche sull'erba e sui campi impolverati dell'eccellenza ha sempre detto la sua. Domani a Pucciano di Nocera Superiore il primo test amichevole stagionale contro le rayon. non è abituato, non è abituato. Grazie.